Come risolvere così i problemi di connessione internet wifi e la connessione ethernet che stai usando sul tuo sistema operativo windows 11 versione 24h2 Ovviamente questi metodi funzionano anche sui vecchi windows, anche sulle vecchie versioni di windows 10 e windows 11 Quindi iniziamo prima a resettare e ripristinare la nostra rete internet se in casa tu hai connesso la tua connessione ma non funziona Quindi proviamo prima ad andare sul cmd, quindi scrivi qua sopra cmd, apri il prompt dei comandi e segui come amministratore e facciamo sì Una volta fatto in descrizione ho lasciato così un comando da inserire, un comando iniziale netintipreset Andiamo a fare copia e lo inseriamo direttamente qua sopra, fai ctrl v e fai invio Reimpostazione completata una volta fatto, inseriamo così, bisogna riavviare il computer per completare l'azione perché una volta riavviato tu devi mettere il secondo comando Facciamo copia, facciamo ctrl v Reimpostazione catalogo iniziale completata, è necessario riavviare il computer per completare l'operazione Una volta fatto tutti e due questi metodi devi riavviare il computer ipconfig spazio slash flush dns Lo ripristino sulla rete e fai ctrl v Cache del resolver dns svuotata, una volta svuotati così il dns Chiudiamo un attimo qua Tasto destro su internet impostazioni rete e internet Impostazione di rete avanzate Io uso un cavo ethernet per non avere sempre problemi di wifi eccetera quindi vado direttamente su altre opzioni schede e faccio modifica Vado sul protocollo ipv4 Ottieni indirizzo server dns automaticamente Oppure utilizzi i seguenti indirizzi server dns Se andiamo direttamente sul nostro browser Quindi in questo caso andiamo sul nostro browser Mettiamo best server dns internet Abbiamo il cloudflare di 1.1.1 Ovviamente questo 1.1.1.1 è ottimo Quindi va inserito direttamente qua sopra Tu basta che scrivi 1.1.1.1 E come server dns alternativo Puoi mettere 1.0.0.1 E usi così questo server dns Se non dovesse bastare andiamo direttamente su risoluzioni problemi Altri strumenti di risoluzioni dei problemi E il computer quindi windows ti aiuterà a capire qual è il problema alla connessione internet Rete e internet facciamo così una diagnostica sulla nostra rete per vedere qual è il problema Ora noi siamo connessi a internet Non sono stati rilevati problemi con la rete Controlla la connessione del cavo ethernet Riavvia il modem Riavvia il computer E qui dice serve ancora aiuto E fare una scansione a questo codice Quero oppure esce dal test di rete Perché abbiamo risolto il problema Chiudiamo un attimo questa scheda Ritorniamo su impostazioni rete e internet Impostazione di rete avanzate E ripristino della rete Puoi semplicemente ripristinare così la connessione internet Facendo un ripristino Il pc verrà riavviato automaticamente E poi tu se usi la connessione wifi Devi inserire di nuovo la password Chiudiamo un attimo qua Tasso destro su start Vai su gestione dispositivi Ed eccoli qua Schede di rete Questa è la mia wifi Quindi tip link wireless È un adattatore che ho inserito nel computer E questo è il cavo ethernet Tasso destro sopra Aggiorna driver Cerchi driver nel computer Scegli da un elenco i driver disponibili Ed eccoli qua Gli ultimi driver rilasciati Per la tua connessione 15 ottobre Faccio avanti E installo così questo driver La stessa cosa Lo faccio anche sulla wifi Anche se non la uso Come puoi vedere Si è ripristinato la rete E ora si sta riconnettendo di nuovo Nessun accesso a internet Ed eccolo qua Accesso a internet Quindi lo faccio anche sulla wifi Faccio aggiornare driver Stessa cosa Tip link technologies Questa qua E faccio avanti In questo caso Se non dovesse funzionare così Il tip link Ovviamente adesso si è abilitata la connessione Adesso funziona anche questa tela wifi Chiudo qua Noi possiamo direttamente Scaricare e installare i driver manualmente Se tu vai sempre su gestione dispositivi Gestione dispositivi qua Copri così il nome di questa scheda di rete Ovviamente qualsiasi scheda di rete che tu stai usando sul tuo computer Oppure direttamente il cavo ethernet Che è poi connesso alla scheda madre Se non sai che scheda madre hai sul tuo computer Basta che scrivi qua sopra System information Questa è la mia scheda madre Prodotto di scheda di base Ora tieni a mente questi nomi Andiamo su google Vado a scrivere Vado a scrive Vado a scrive P450 Gaming Plus Vado su support Vado su driver Vado su LANDriver ed ecco li qua Questo è l'ultimo driver che hanno rilasciato per il mio cavo Ethernet Quindi a me basta scaricarlo e installarlo sul mio computer Invece per la connessione Wi-Fi Che ti ho fatto vedere su gestione di dispositivi Tu devi andare a prendere il nome Tip Link Wireless Eccolo qua Quindi io vado a scaricare direttamente il driver per la mia connessione Wi-Fi Per il mio adattatore Faccio download, scarico e installo i driver Per il mio dispositivo Ovviamente se tu non puoi scaricare e non puoi navigare su internet Puoi semplicemente provare a scaricare con i tuoi dati sul telefono questo driver E poi lo trasferisci con un cavo USB sul computer Lo trascini sul desktop E poi cominci a installarlo Se non dovesse bastare possiamo direttamente disabilitare la nostra rete Quindi il nostro driver è sempre su gestione di dispositivi Facendo gestione di dispositivi qua sopra Tasto destro su Start Gete di rete Ed eccolo qua Faccio direttamente Disabilita il dispositivo Io disabilito così questo dispositivo che usano per navigare su internet Adesso si è connessa alla rete Wi-Fi Disabilito pure questa Ora non c'ho nessuna connessione internet attiva E riabilito di nuovo il dispositivo Quindi se hai sempre questi problemi puoi semplicemente fare questo trucchetto nel disabilitare E aggiornare i driver e continuare a farli finché la rete non si ripristina da solo Se no puoi semplicemente disinstallare questo dispositivo e poi riavviare il sistema Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao 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 Ciao